Welcome back e bentornati sul mio canale seconda parte del draft Abbiamo iniziato bene, andiamo a vedere i risultati per chi non ha visto la prima parte 3 a 0 e quit, e 3 a 0 e quit nella seconda partita Adesso andiamo subito a cercare il nostro primo sfidante di questo episodio Finalmente abbiamo trovato una partita, finalmente, con la tenza a 4 Perché fino ad ora tutti quanti quit, la tenza a 1, la tenza a 2 Vediamo un po' la squadra del nostro avversario Eh, 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 dobbiamo stare molto attenti Centrocampo molto tosto, in porta a Neuer, Tots Difesa ben formata e niente, dobbiamo stare attenti Perché comunque l'intesa è uguale alla nostra Inizia adesso la nostra prima partita di questo episodio, speriamo di vincerla Non sarà facile segnare a Neuer, secondo me Bella palla, anche ottima posizione Dentro per... no, vabbè, divorato Niente, no, vabbè, me lo so, ma potevo passare tranquillamente a Ronaldo Potevo passarla Tranquillamente, Tashi, una telefonata a Neuer, tranquillo proprio Uno... e palla a loro Questi sono due Questi sono due Robertino Lewandowski La mette dentro al trentesimo per l'1-0 Gran gol, grande azione Finalmente Siamo riusciti ad entrare dentro E Lewandowski ci porta in vantaggio Gran palla, gran palla qui Gran filtrante Lui si è trovato male con il difensore centrale E Lewandowski non sbaglia, 1-0 Bella palla per CR7 Qui possiamo andare E qui possiamo andare E qui è partito il treno E qui possiamo andare Ancora Ronaldo La mette sul secondo palo per... No, vabbè, non ho parole E mo? E mo? Valdés! 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 Tre volte! Tre volte Valdés! Tre volte Valdés, miracolo! Tre volte Valdés, miracolo! Incredibile! Fabregas va fino in fondo La mette dietro Non ci credo Non ci credo Non ci credo Quello che sta succedendo Non ci voglio credere Attenzione a Nacio Che è velocissimo Attenzione a Nacio Pallone per lui Forse è lunghissimo La mette dentro Cavani Valdés 2 di recupero L'arbitro non vuole fischiare L'arbitro non vuole fischiare E sta dentro Allontanata dalla difesa Neymar è più veloce La palla che esce E finisce qui Vinciamo anche la terza partita Senza subire gol E andiamo subito A cercare il nostro Ultimo avversario Perché siamo in finale Di questo draft Tua madre Giochiamo contro Tua madre Che però abbandona Ok Avversario trovato Alpittur 1 Io vorrei giocare Con la manetta della Roma Però lui non cambia Quindi giochiamo Con la maglia del West Ham Che ci ha portato bene Nel primo episodio La sua squadra è composta Dai mostri Perché c'è Ronaldo Totti E Hazard Tots Inizia qui la finale La prima palla La giochiamo noi Cerchiamo subito Di andare In attacco Cerchiamo di andare In vantaggio Ma non così Robert Lewandowski 1-0 al quinto Attenzione La sblocca subito Lavandino Lewandowski E poi va vicino A una bandierina A spaccarla Subito La sblocca lui Al minuto 6 Non rivediamo nulla Bello il corridoio Per CR7 Bella palla Ancora Ronaldo Ronaldo Se lo divora Mamma mia Ronaldo Che gol si è mangiato Che gol che mi sto a mangiare Guarda questo Se rallunga Ronaldo Fa quello che C***o vuole Eh beh Eh beh Valdes Valdes L'eroe L'eroe del draft Fino ad ora Oh dai Qua dobbiamo fare fallo Cioè non esiste Che quello fa Quello che vuole là Eh Eh per forza Per forza Allora il fallo Ci sta tutto proprio Dai Neanche giallo Mamma mia Valdes Al 43 Stiamo attenti Raga Stiamo attenti Raga Eccolo lì Valdes Ancora una volta La tiene Entra Zard Invece di Dybala Fuori Robben Proviamo a Zard Sulla fascia destra Speriamo bene Ragazzi Eccolo è partito Robert È partito Robert Lewandowski Lewandowski A tu per tu col portiere Lewandowski Roberto Lewandowski Cinquantesimo Cinque minuti Al primo tempo E cinque minuti Nel secondo tempo Due gol di Lewandowski È una sentenza Quando parte Tra le linee Quando parte Sul filo del fuorigioco Lewandowski Ti fa malissimo E davanti al portiere Non sbaglia Mai Gundogan la mette Per Ronaldo Che la chiude 3 a 0 All'ottantacinquesimo Finalmente Partita chiusa E possiamo dire Che abbiamo vinto il draft È la prima volta Che lo faccio Quattro vittorie consecutive E per ora Quattro partite Senza prendere gol Fabregas La mette dentro Per Ronaldo E l'Albitro dice Che può bastare qua Finisce 3 a 0 Mamma mia Che partita amici Che draft E adesso Andiamoci ad aprire insieme I pacchetti Quattro vittorie 3 a 0 3 a 0 1 a 0 E 3 a 0 La terza partita È stata veramente tosta Vediamo che pacchetti Ci danno Un pacchetto giocatori rari Un pacchetto mega E un pacchetto oro Premium maxi Quindi Andiamo subito Ad aprirci i nostri pacchetti Iniziamo con questo 3 2 1 Vai Primo pacchetto maxi Non è walk out È un giocatore tedesco Dell'ottavo 82 Va bene dai Tutti questi bei giocatori Ce li teniamo Perché ci facciamo le sfide Per i prossimi tots Quindi Tutto al club Secondo pacchetto Pacchetto mega Anzi lo faccio prima Il pacchetto giocatori rari 3 2 1 Via È walk out amici È walk out È walk out Non è tots Peccato Vediamo le bandiere No vabbè Non ci credo Non ci credo Madonna Madonna No vabbè No vabbè Non ce la posso fare Che sfortuna Che sfortuna Pepe lo mettiamo Alla lista trasferimenti Questi mettiamo tutti al club Mamma mia Mi sono rimasto malissimo Ultimo pacchetto Ragazzi Pacchetto mega 3 2 1 Via Non è walk out Questa volta È un 80 81 Mi sa L'allana Sì proprio L'allana 83 Va bene Dai Ok ragazzi Per questo episodio È tutto Io vi porterò Durante l'estate Altri draft Sperando ovviamente Di vincere E di sculare Come abbiamo appena fatto Un saluto a tutti Da OneMata Mi raccomando Lasciate un bel like Di supporto Per questa serie E noi ci vediamo In un nuovo video E noi ci vediamo No lie No lie No lie It's gonna be lit tonight